L'indiano fosse un po' ubriaco, quel fatidico 16 agosto avrebbe preso in braccio la bambina di 5 anni che stava tornando dalla spiaggia a Scoglitti assieme ai genitori, ma non si sarebbe affatto allontanato neanche di mezzo metro prima che il padre si riprendesse la figlioletta. E questa è la nuova versione dei fatti che emerge dagli interrogatori incrociati dai testimoni che avrebbero assistito al tentativo di sequestro. Si ribaltano quindi le carte in tavola, dieci giorni dalla controversa vicenda catapultata agli onori della cronaca nazionale per la contestata scelta della procura di Ragusa di lasciare il 43N Ram Lubai a piede libero. Questa nuova versione dei fatti avvalora quanto dichiarato dall'indiano in sede di interrogatorio di garanzia durato oltre sette ore in cui si è proclamato innocente asserendo di non aver mai voluto fare del mare alla bambina come sostenuto anche dall'avvocato Biagio, giudice difensore dell'indagato. Il mio assistito mi è proclamato innocente e ha dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di prendere la bambina. Sul merito dell'azione non sono entrato prima e non intendo entrare adesso. Altre versioni le cmentisco al momento opportuno che arrivò tutta la vicenda. Il mio assistito si sente smarrito, ha avuto anche paura. Nel frattempo Lubai è ospite di un centro di accoglienza di Caltanissette in attesa di essere rimpatriato nei prossimi giorni in India. L'uomo teme di fatti per la propria incolumità dopo essere stato minacciato di morte per strada vittoria. Lubai, che si guadagnava da vivere facendo tatuaggi all'enne in spiaggia, era irregolare sul territorio italiano avendo peraltro disatteso un precedente decreto di espulsione. Intanto in queste ore si infoltisce la schiera di quanti credono nell'innocenza dell'uomo che stando ai ricordi di qualche residente, nell'estate 2010 avrebbe persino aiutato un bagnino a salvare dal mare mosso un turista in difficoltà.